Di un'altra ricorrenza che vorrei sottolineare in maniera particolare, quella dello sbarco in Italia del contingente brasiliano che combatte in Italia accanto agli alleati. Quello sbarco avvenuto esattamente 80 anni fa, il 16 luglio del 1944. Ho rinnovato al Presidente Lula la riconoscenza della Repubblica Italiana per il contributo dei giovani brasiliani per la nostra liberazione dall'oppressione nazista e fascista.